Quello che mi piace del mio lavoro è che è sempre diverso e variegato. I think my research is not really driven from the technology side, but it's really driven from human needs. Il consiglio che darei è ascoltare quello che c'è dentro, di avere la curiosità. Io credo che l'importante è di non lasciare la scuola, e di andare la scuola che voglio andare. Uno non dovrebbe essere assicurato, uno dovrebbe solo provare, e ci sono sempre persone che ti possono aiutare. Una ricercatrice non vuol dire essere al di fuori del mondo, è importante anche affermarsi personalmente, e quindi fare anche le proprie scelte personali, senza paura. Ciò che mi spiega a raggiungere, è di rinforzare di rispondere a domande, che non sono semplici. La passione per scoprire qualcosa di nuovo, la curiosità, è sempre stata parte di me. La migliore approssimazione alla felicità è quella di fare un lavoro che si ama. Grazie a tutti.